Oltre 2 milioni e mezzo di euro per il recupero e la riqualificazione di impianti sportivi e beni monumentali della città di Sciacca, si tratta di fondi del PNRR, le cui tempistiche sono piuttosto strette, oltre a richiedere procedure rigide. Una corsa contro il tempo per non perdere i finanziamenti, quella che è necessaria attuare. Sul sito del Comune di Sciacca sono stati pubblicati ieri gli avvisi finalizzati all'espletamento delle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori. Le imprese interessate dovranno presentare le stanze entro le ore 10 di lunedì prossimo, 26 febbraio. Sono complessivamente 7 i progetti finanziati, tra i più rilevanti quello per l'adeguamento e la rifunzionalizzazione della piscina comunale di Contrada Perriera per un importo di 889 mila euro e una durata dei lavori prevista in 120 giorni a partire dalla consegna. Ammonta a 740 mila euro invece il finanziamento ottenuto per un altro importante impianto sportivo della città, lo stadio comunale Gurrera, per il quale sono previsti lavori di rifunzionalizzazione illuminotecnica e adeguamento alla normativa vigente da realizzare in 180 giorni. Altra struttura sportiva sulla quale si interverrà con i fondi del PNRR è il campo di bocce, sempre di Contrada Perriera, in questo caso la durata dei lavori prevista è di 150 giorni per la rifunzionalizzazione dell'impianto e l'investimento ammonta a 197 mila euro. C'è poi il progetto per il completamento e riuso funzionale dell'ex chiesa della raccomandata per un importo di 99 mila euro e per il quale sono previsti 120 giorni di lavori. Il progetto per la manutenzione straordinaria e revisione della copertura dell'ex convento San Francesco di Paola di via Giuseppe Licata che richiederà 180 giorni di lavoro e per il quale sono stati ottenuti 225 mila euro. E ancora il progetto per la manutenzione straordinaria e revisione della copertura dell'ex palazzo di città di Vicolo Garibaldi per un importo di 242 mila euro. Ultimo tra i progetti da appaltare è quello che riguarda la cinta muraria di Sciacca, in particolare la messa in sicurezza delle parti ammalorate delle mura di Vega, via Mazzini e via Calcinaro per un importo di 142 mila euro e una durata dei lavori prevista in 150 giorni dalla consegna. Acquisite le disponibilità da parte delle ditte si procederà all'assegnazione dei singoli appalti secondo il criterio del prezzo più basso. Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno pervenire esclusivamente pena l'esclusione tramite PECCA, il protocollo del Comune di Sciacca, come dicevamo, entro e non oltre le ore 10 di lunedì prossimo.